Volontari capaci di dare risposte concrete agli scandali della fame e delle guerre, testimoni del valore e della gratuità. Così Papa Francesco ha tratteggiato gli uomini e le donne aderenti alla FOXIV, Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale, ricevuti stamani in Aula Palo VI per i 40 anni dalla Fondazione. I poveri non possono diventare un'occasione di guadagno, ammonisce il Pontefice. Le povertà oggi cambiano volto, i poveri aspirano ad essere protagonisti, si organizzano e praticano la solidarietà che esiste tra quanti soffrono. La FOXIV è così chiamata a cogliere i segni dei tempi e agire in termini di comunità e soprattutto lottare contro la disuguaglianza, la mancanza di un lavoro e di una casa di fronte ai diritti negati. Causa della povertà, aggiunge il Papa, è un sistema economico che saccheggia la natura senza rispettare il creato, dono di Dio. Altro compito dei volontari è la costruzione della pace in paesi difficili, dove bisogna gettare ponti contro l'aspirare di violenza e dinanzi agli orrori, le fughe, le persecuzioni, anche a motivo della fede. Il discepolo di Cristo, afferma Francesco, non volta la faccia dall'altra parte, ma si fa carico dell'umanità dolorante. Penso ai migranti e ai rifugiati, i quali cercano di lasciarsi alle spalle dure condizioni di vita e pericoli di ogni sorta. È necessaria la collaborazione di tutti, istituzioni, ONG e comunità ecclesiali, per promuovere percorsi di convivenza armonica da persone e culture diverse. I movimenti migratori sollecitano adeguate modalità di accoglienza che non lasciano i migranti in balia del mare e di vande di trafficanti senza scrupoli. Al tempo stesso è necessaria una fattiva collaborazione fra gli Stati per regolare e gestire efficacemente tali fenomeni. Grazie. Grazie. Grazie.